le nostre cinque proposte al governo draghi a sostegno degli italiani all'estero aumentare le risorse per i consolati estendere l'esenzione imu a tutti gli italiani residenti all'estero promuovere l'insegnamento della lingua italiana attraverso il sostegno agli istituti di lingua e cultura italiana una riforma per rafforzare i comites comitati italiani all'estero potenziare ulteriormente le risorse per i giovani italiani emigrati all'estero